Slitta a mercoledì, l'autopsia sul corpo di Teodoro Ullasci, l'uomo ritrovato senza vita lo scorso venerdì in via Fortebraccio dopo essere stato preso a calci da due uomini prontamente arrestati dalla questura. La famiglia di Teodoro Ullasci è arrivata subito dalla Sardegna, chiede giustizia e chiede anche a chi abbia visto qualcosa di parlare, anche se le immagini che hanno incastrati due sono inequivocabili. Un mazzo di rose rosse e un messaggio scritto su un palo da parte loro nel punto in cui Teodoro è stato trovato. La buona notizia è che il suo cagnolino Aki, che vagava per la città impaurito, è stato ritrovato e messo in salvo. Ullasci nato a Torino era di origini sardi, il fratello a capo della polizia municipale di Iglesias, trasferitosi all'Aquila, aveva abitato prima a Roio e poi a Tempera in un MAP. Venerdì sera l'aggressione fatale che ha portato in carcere un romeno e un cubano, Alexandru Balon e Carlos Morales. I due sono stati riconosciuti dalle forze dell'ordine, residenti da anni in città, hanno precedenti per questioni di droga. L'accusa provvisoria è un omicidio preterintenzionale, il fermo c'è stato per evitare la fuga dei due che si erano rifugiati per sfuggire all'arresto in un casolare a preturo. Il PM ha 48 ore per la convalida e fissare l'udienza, la giornata buona dovrebbe essere quella di domani. Dopo il conferimento dell'incarico al medico legale Giuseppe Calvisi ci sarà l'autopsia, mercoledì. Questa stabilirà le cause esatte del decesso, farà capire anche come sarà orientato il procedimento a carico dei due. Le immagini registrate dalle telecamere di Via Forte Braccio, che sono private ma d'alta definizione, hanno immortalato gli ultimi istanti di vita di un lascio e anche l'aggressione. Si vede la vittima che cammina seguita dai due, un breve scambio di parole, poi uno prende un sanpietrino che non userà. In un altro fotogramma si vede il secondo uomo che tira un calcio su un fianco a un lascio, poi gli sfera un pugno in pieno viso. Un lascio cade a terra, non si riprenderà mai più. Le telecamere hanno registrato anche il dopo, un lascio ormai a terra e i due che gli svuotano le tasche. Sotto esame ci sono anche i telefonini dei due arrestati per capire se ci fossero dei rapporti con un lascio, da segnalare la velocità della questura che in pochissime ore ha risolto il caso, grazie alla profonda conoscenza del territorio. Un omicidio in pieno centro, peraltro per motivi che noi stiamo ancora cercando di ricostruire, non è una cosa usuale. Nell'immediatezza abbiamo subito ricostruito tutta la dinamica e abbiamo capito che sarà trattata di questa colluttazione con dei soggetti che poi siamo andati a identificare in brevissimo tempo. Quello che voglio sottolineare è soprattutto la bravura del personale, delle volanti, degli uffici investigativi della squadra mobile che in brevissimo tempo sono riusciti a ricostruire un identikit che poi ha portato anche alla localizzazione di questi soggetti che peraltro riteniamo che avendo capito quello che avevano commesso si sono andati subito a nascondere.